Sono Marco Canestrari e insieme a Nicola Biondo ho scritto Supernova, l'inchiesta sul Movimento 5 Stelle. Io ho lavorato dal 2007 al 2010 in Casaleggio Associati, sono stato il braccio destro di Gianroberto Casaleggio, mentre Nicola è stato dal 2013 al 2014 il capo della comunicazione del Movimento alla Camera dei Deputati. In Supernova raccontiamo la scalata del Movimento alle istituzioni e la scalata dei dirigenti del Movimento ai vertici del partito. Raccontiamo di Davide Casaleggio, raccontiamo Pietro Dettori, raccontiamo Luigi Di Maio, i segreti, i tradimenti, le meschinità dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Supernova lo trovate in tutte le librerie online e offline.